E' stato inaugurato a Piedimonte Matese, nel cuore della città, il comitato elettorale dei candidati della RECA Gianviero Zinzi e Michela Visone per le prossime elezioni regionali della campagna. Presenti numerosi simpatizzanti, amici dei due candidati, nella sede di Viale della Libertà, a margine dell'evento, Gianviero Zinzi a fare il bilancio di questa prima parte della campagna elettorale. A parte un po' di veleni iniziali, può farci il bilancio di questa primissima parte della sua campagna elettorale in provincia di Caserta, nel Matese? Una bellissima campagna elettorale, molto difficile, ma che ci consente di mantenere il contatto con le persone e con le comunità che abbiamo vissuto durante questi cinque anni. Qui nell'Alto Casertano c'è un fermento molto positivo e sono fiducioso. In merito alla sanità per l'ospedale di Piedimonte Dea di primo livello è intervenuto, come sa, anche il presidente della regione Campania, De Luca, con un video a sostegno del progetto. Che idea si è fatto lei? De Luca ha provato a mettere una pezza rispetto allo scivolone dell'assessora regionale, purtroppo non c'è alcun tipo di provvedimento firmato che dica che l'ospedale di Piedimonte sia un Dea di primo livello. Noi ci auguriamo invece che tutto ciò accada e quindi invitiamo il presidente della regione a firmare un provvedimento subito nella qualità di commissario d'acta. Siamo sicuri che sarà felice anche lui di realizzare qualcosa di concreto piuttosto che di continuare a raccontare favole. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it